per bacco muoio di fame ehi ma quello è patè di carcasse, zuppa di lumache millepiedi, tacos di pipistrallo con guacamole guarda guarda che cosa abbiamo qui tanco della ripugnante sbobba che papà batfi la propina nella sua lurida latrina allora vieni a trovarci al dingo's diner il cibo del dingo's diner non è commestibile, consumato è rischioso potrebbe causare astenia, sudorazione maleodorante, comportamenti avventati fissazione avuncolare, iperfagia, ipofagia, isolamento da amici e familiari irritazioni cutanee, tedio esistenziale, perdita di assudati dagli orifizi o riposo sull'arrivo, riscoglotte rossate, ricordi di quella ragazza al liceo sarà felice ora guardate camicie e sera più niente pipistrallo vai con le pulizie di primavera saltare su una cassa tnt, roba da bandicoot saltare su una cassa ah, canaglie, vi eliminerò dal primo all'ultimo saltare su una cassa tnt, roba da bandicoot saltare su una cassa tnt, roba da bandicoot Oh, quelle tavaglie le ho cucite io! Oh, quelle tavaglie! 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 Oh! 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 Oh, quelle tavaglie! Oh!